Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box e vi avviso del fatto che su Facebook carico anche dei video di casi italiani inediti di cui qua non avete mai sentito parlare. Quindi se avete voglia di sentire qualche caso italiano andate a fare un salto su Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi sottolinea alcune devastanti conseguenze del mix di dipendenze e dinamiche tossiche che trasforma la vita delle persone coinvolte e, purtroppo, anche quelle di coloro che vi ruotano intorno. Ash Armand nasce nel 1981 a Nuova Delhi, la capitale dell'India, dove vive con i suoi genitori e i suoi due fratelli. In realtà il suo vero nome è Akshaya Kubian, ma lui deciderà di cambiarlo in Ash, probabilmente quando comincerà a lavorare nel mondo dello spettacolo. Io, per evitare confusione, lo chiamerò Ash fin da ora. I suoi genitori seguono assiduamente le tradizioni spirituali. Sua madre è cresciuta a Nuova Delhi, ha studiato le filosofie orientali e le medicine alternative, mentre suo padre è polacco, pur essendo nato negli Stati Uniti. Fin da giovane il padre di Ash aveva dimostrato di possedere un'intelligenza fuori dal comune. Infatti aveva frequentato il college a un'età prematura rispetto alla norma. In quel periodo, durante la guerra in Vietnam, il ragazzo aveva partecipato a numerose proteste a favore della pace ed era stato definito un attivista ribelle. Per evitare di finire arruolato nell'esercito, aveva preso parte all'organizzazione di volontari Peace Corps ed era stato mandato a prestare servizio sia in Corea che in Giappone. In questa circostanza aveva conosciuto la madre di Ash, si erano sposati presto e avevano deciso di trasferirsi a Nuova Delhi, dove Ash è nato. Il bambino cresce assimilando i precetti delle filosofie orientali. Quando ha quattro anni, tutta la famiglia si trasferisce in Giappone, dove il bambino vive la sua infanzia, ma purtroppo si ammala gravemente. È affetto da un asma di livello grave che influenza la sua esistenza, dato che non riesce a respirare correttamente. E sviluppa anche una scoliosi che crea pressione sui suoi polmoni, complicando ulteriormente la respirazione. Ash trascorre un lungo periodo in ospedale, tuttavia la medicina di scuola orientale sembra non riuscire ad apportargli effetti benefici. Quindi sua madre gli fa intraprendere una routine basata sulle terapie orientali. Ash deve concentrarsi sulla meditazione e sulla respirazione e sua madre gli insegna anche a praticare lo yoga. In effetti queste cure sembrano funzionare e la sua salute migliora di giorno in giorno. Ash ritiene che questo sia un miracolo. Era convinto che non sarebbe mai riuscito a vivere una vita normale, data la gravità della sua asma, quindi dedica alle terapie orientali una parte importante della sua quotidianità. Durante l'infanzia di Ash la famiglia viaggia molto attraverso gli Stati Uniti, più precisamente nello stato del Maine, dove si stabilisce per un breve periodo di tempo. Nell'arco di questi viaggi la famiglia di Ash entra in contatto con un gruppo di persone interessate a un modo di vivere alternativo, composto da illustri personalità accademiche, scienziati, artisti e poeti, che provengono da tutto il mondo e si riuniscono per discutere di come cambiarlo. I membri del gruppo praticano anche gli insegnamenti del Tantra, un'antica disciplina spirituale indiana che si prefigge di sfruttare un'ampia varietà di esperienze ed energie, sia mentali e fisiche per avanzare lungo il percorso verso l'illuminazione. Il Tantra pone grande enfasi anche sulla sfera della sessualità, concependola come un intreccio tra la dimensione spirituale e quella fisica, per percepire un senso di liberazione, di equilibrio e di pace. I genitori di Ash rimangono davvero coinvolti da questo gruppo di persone, di conseguenza anche il figlio le frequenterà assiduamente durante l'infanzia. Ash è presente agli incontri, anche se gli argomenti trattati non sono adatti ai bambini e il piccolo è addirittura costretto a subire dei maltrattamenti. I membri del gruppo, in particolare il suo padrino, gli impartiscono severe punizioni fisiche, trasmettendomi l'idea di una setta. Ragioniamo. Parliamo di una cerchia di individui dalle provenienze più svariate e che si riuniscono per raggiungere l'illuminazione. Poi i bambini presenti vengono picchiati se commettono degli sbagli. A me ricorda parecchio il caso di Anne Hamilton Byrne. I bambini inoltre devono frequentare un campo di addestramento a Kyoto, in Giappone, presso un ranch di cavalli gestito da un contadino alcolizzato e iroso. Il contadino è puntualmente offensivo nei confronti di Ash. Lo castiga con punizioni fisiche. Mi chiedo come si possa allontanare e affidare il proprio figlio a una persona losca e violenta affinché cresca in questo ambiente che ricorda una setta, per quanto Ash non l'abbia mai definita così. Una volta adulto dirà che la sua educazione e le esperienze vissute hanno impattato disastrosamente sulla sua vita. Durante l'adolescenza Ash decide di prendere le distanze dal gruppo per poter compiere i suoi passi da solo. Punta a lavorare nel campo della medicina cinese e proseguire quegli studi a cui aveva approcciato da bambino grazie a sua madre. Così, all'età di 16 anni, Ash alla scuola e comincia un apprendistato per assimilare la disciplina del Kijong, che prevede molta meditazione ed esalta la guarigione attraverso tecniche di respirazione e il ricorso a erbe naturali. Ash studia anche la disciplina Zen Shatsu, un trattamento manuale atto a rigenerare il corpo e calmare la mente, dopodiché trascorre gran parte dei suoi vent'anni d'età a lavorare come massaggiatore. Ash viaggia moltissimo tra India, Thailandia, Costa Rica ed Europa. Durante questo periodo rimane affascinato dalla comunità trans psichedelica e partecipa a importanti eventi dove centinaia di persone si riuniscono nei boschi, assumono delle sostanze psichedeliche e ascoltano la musica di genere trans. Ash ama la vita, è felice e libero. Coloro con cui stringe amicizie in questo periodo lo descrivono come un ragazzo puro, premuroso, amorevole e frizzante. È chiaro che aveva attraversato varie difficoltà da bambino, ma sembra che abbia superato quella fase. Sempre intorno ai vent'anni Ash sperimenta la sua prima relazione fisica, anche se il nome della donna non è noto. Da questo momento in poi si concede molti rapporti non protetti e questa ragazza rimane incinta contro ogni pianificazione. Pur non avendo una relazione stabile, la coppia sceglie di portare avanti la gravidanza e dà il benvenuto al bambino. Pare che Ash sia un ottimo padre che si prenda cura di lui in termini di presenza ed economici. Ash però reputa opportuno a questo punto cambiare lavoro. La sua professione di massaggiatore non gli permette di percepire un reddito fisso e aspira a una maggiore stabilità ora che ha un figlio a cui deve provvedere. Decide così di intraprendere la carriera del modello. Si trasferisce a New York e si affida a un'agenzia chiamata Ice Model. Riesce a ottenere delle buone collaborazioni ma viene agganciato sporadicamente, quindi non riesce a garantirsi quello stipendio costante a cui ambiva. All'età di 30 anni Ash si rassegna all'idea che nemmeno la carriera del modello faccia per lui. Ma poi nel 2011 viene contattato da Garen James, un uomo d'affari e di successo. Garen ha visionato il profilo di Ash che si propone come modello online e gli è piaciuto parecchio. Così gli propone di diventare un gigolò o in altre parole un escort. Garen infatti gestisce un'azienda di escort chiamata Cowboys for Angels e ritiene che il fisico di Ash sia assolutamente perfetto per svolgere questo lavoro. Inizialmente Ash è piuttosto insicuro e scettico. Quando Garen lo approccia Ash si sorprende che esista un'industria per i gigolò, che ci siano donne disposti a pagare per usufruire della compagnia di un uomo. Sceglie di rifletterci un po' su e alla fine conclude che si tratta di un'ottima opportunità. Era alla ricerca di un nuovo lavoro visto che la carriera di modello non gli permetteva di guadagnare abbastanza soldi. E ora pensa, perché no? Cos'ho da perdere? Se questo lavoro non gli piacerà e se non gli farà guadagnare i soldi a cui aspira, potrà sempre smettere. Quindi accetta la proposta di Garen James. Ash fa le valigie e lascia New York per raggiungere Las Vegas. Dopo aver accumulato un po' di esperienza partecipa a un podcast in cui parla del suo lavoro da gigolò, affermando che le sue clienti provengono da tutti i ceti sociali. Alcune sono appena uscite da una relazione e desiderano una distrazione, altre sono donne potenti che si recano a Las Vegas per affari, altre ancora sono troppo impegnate per coltivare una relazione seria, quindi desiderano soltanto divertirsi e avere un po' di compagnia mentre alloggiano in città. Sempre in questo podcast Ash spiega come vengono gestiti gli incontri, facendo riferimento all'agenzia Cowboy for Angels. Le clienti di Ash devono firmare un accordo contrattuale affinché lui possa assumersi l'incarico di passare del tempo con loro. La durata minima di questi appuntamenti è di 4 ore, ma è la cliente a scegliere come investire il loro tempo. Possono fare passeggiate, andare a cena fuori o partecipare a eventi sociali mondani. Quanto invece ai prezzi, i servizi di Ash sono piuttosto costosi, le clienti pagano 1600 dollari per trascorrere 4 ore in sua compagnia. Se invece vogliono passarci insieme tutta la notte, il costo sale a 3000 dollari. Infine, se i servizi richiesti si estendono per una settimana, la tariffa si alza vertiginosamente, raggiungendo i 25.000 dollari. Infine, se i servizi richiesti si estendono per una settimana, la tariffa si alza vertiginosamente, raggiungendo i 25.000 dollari. Credo sia una cifra folle, posso dirlo, ma ignoro quali siano le tariffe generali che richiedono il gigolò, quindi non ho un metro di paragone per valutare se siano importi congrui. Non so dunque se Ash sia particolarmente caro oppure no, ma considerato che questi clienti assumono Ash o qualche altro gigolò iscritto all'agenzia per un minimo di 4 ore per un massimo di una settimana, devono essere donne decisamente ricche. Del resto si sa, gli e le escort spesso non si limitano a offrire compagnia, ma durante questi incontri vengono spesso consumati dei rapporti intimi, nonostante, anche negli Stati Uniti, sia illegale pagare qualcuno per andarci a letto. Questo però non vuol dire che non accada. Esistono varie scappatoie per compiere l'inghippo, come considerare il risvolto intimo una circostanza avvenuta spontaneamente, non prevista dal contratto. Ash infatti afferma nel podcast che, se lui e la cliente si sentono particolarmente a loro agio e in sintonia, l'appuntamento potrebbe concludersi con del s***o pur non essendo stato incluso e garantito dal servizio offerto. Nel 2012, pochi mesi dopo l'inizio di questo lavoro, ad Ash viene proposto di partecipare al reality show Gigolos, ormai arrivato alla sua terza stagione. Il format del programma prevede di raccontare le vite di 5 escort maschi che provengono dalla stessa agenzia, Cowboys for Angels, quella per cui lavora Ash. I partecipanti vengono seguiti dalle telecamere giorno per giorno, mostrano le interazioni con le clienti che richiedono i loro servizi. Ciascuno dei 5 uomini viene scelto per assumere un ruolo diverso nello show, rappresentando una personalità specifica. Ad esempio c'è il ragazzo che figura come un macio o quello catalogabile come un papà single. Lo spettacolo si concentra proprio sull'aspetto più rappresentativo di ogni personaggio e ad Ash viene assegnato il ruolo del meditatore Zen. Lui è il guaritore spirituale, deve mostrare un atteggiamento calmo e pacifico, proprio come gli suggeriscono la sua educazione e la sua carriera da massaggiatore. Questo reality comprenderà complessivamente sei stagioni e in base a quanto ho letto è chiaramente incentrato sul set, il che implica che vengano riprese molte scene di nudo. Non mi è stato possibile recuperare delle puntate ma so che i rapporti intimi completi non vengono mostrati, anche se qualcuno insinua il contrario. L'esposizione delle parti intime di entrambi i sessi ha sollevato dei dubbi sulla legittimità di questo programma. In ogni caso, come per ogni altro reality, corrisponde di più ha una sceneggiatura. Del resto, perché dovrebbe essere interesse delle clienti mostrarsi in tv mentre vanno a letto con degli uomini pagando pure per farlo? Si scopre infatti che le donne apparse nel reality non sono vere clienti ma attrici che interpretano questo ruolo, fingendo di essere delle casalinghe o delle donne d'affari desiderose di assumere uno gigolò. Questo per dirvi che anche in questo reality nulla può essere considerato reale. Online sono visibili alcune clip tratte dal programma in cui Ash guida la macchina spostandosi insieme agli altri escort. Sembra che abbia un buon rapporto di amicizia con loro mentre parlano della loro vita e delle loro esperienze. Si trovano anche delle clip in cui Ash si presenta agli appuntamenti con le clienti. Ad esempio ne incontra una che apprezza particolarmente i vampiri e propone un gioco di ruoli in cui lei con addosso la lingerie è sdraiata in una bara. Ash deve avvicinarsi al feretro, aprirlo, mentre addosso dei denti aguzzi finti è un lungo mantello nero. Posso dirvi che ho trovato questa scena cringe, cioè imbarazzante, soprattutto quando Ash morde il collo della donna e poi l'aiuta ad uscire dalla bara. Ma sono visibili anche molte scene in cui Ash ha dei rapporti con queste finte clienti oppure una in cui quattro escort maschi incontrano una donna e condividono l'intimità tutti insieme. A seguito dello spettacolo nel corso degli anni Ash inizia a guadagnare discrete somme di denaro. I like sui suoi social media aumentano sempre di più e conquista molte follower che creano delle fan page dedicate a lui su Instagram. Allo stesso modo col passare del tempo la personalità di Ash inizia a cambiare. La fama riscossa non gli basta mai, ne brava sempre di più. Inoltre diventa piuttosto insicuro riguardo al proprio aspetto. Pensa che gli altri escort che appaiono nello show abbiano un fisico migliore del suo, muscoli più sviluppati, quindi inizia ad assumere delle grandi quantità di steroidi. Una volta ottenuto un corpo più forzuto l'ego di Ash diventa smisurato. Ora è incredibilmente ambizioso, sa di essere famoso e di avere un aspetto attraente, per cui si convince di poter conseguire tutto quello che vuole. Partecipa a feste ed eventi per le celebrità a Las Vegas ed esce con un sacco di donne, spesso modelle, influencer di Instagram o attrici. Decide di diventare poliamoroso, quindi di privilegiare le relazioni con donne diverse. E prende a consumare molti alcolici e anche sostanze, mentre assume una quantità sempre crescente di steroidi. Queste abitudini alterano profondamente la sua personalità. Prima Ash era un ragazzo premuroso e frizzante, ma ora è sempre arrabbiato, perde facilmente la pazienza e il suo lato violento emerge. Ad esempio durante i party esclusivi a Las Vegas litiga spesso con altri invitati, arrivando alle mani per le ragioni più insignificanti. Ash finisce anche nei guai con la legge, viene arrestato più volte per guida in stato di ebrezza e rinchiuso in carcere per un po'. L'uomo vuole inseguire la fama in ogni modo. E ora rivolge la sua attenzione a YouTube. Crea un canale e diventa uno YouTuber del fitness, anzi di un ramo particolare del fitness, ossia quello spinto. Questo canale è tutto online ma almeno adesso non contiene molti video. Ash comunque dà vita a un format chiamato Sexercise per uomini, in cui pubblica dei video di 10 minuti nei quali sembra effettivamente che lui si muova come a simulare un rapporto intimo. Online ne è visibile uno intitolato Succhi per un rapporto intimo migliore, dove Ash usa un estrattore per produrre un succo a base di carote e sedano e afferma che questa bevanda sia meglio del Viagra per stimolare l'attività intima. Un altro video si intitola Allenamento per la camera da letto, mentre uno degli ultimi video postati sul canale l'ha chiamato Consigli sul controllo delle Yaku. Credo che Ash stia cercando di replicare su YouTube il personaggio che aveva interpretato in Shikolo. Alcuni di questi video hanno in effetti raggiunto tantissime visualizzazioni, ne contano 2,4 milioni o comunque 1,8 milioni. Di conseguenza il suo diventa un canale YouTube di successo. Ma per Ash questo ancora non è abbastanza. Vuole di più. Così inizia a incentrarsi sul suo profilo Instagram postando contenuti sempre più espliciti per ottenere like e attenzione. Ash si fa strada nell'industria del po**o utilizzando alcuni video in cui interpreta il ruolo del massaggiatore. E crea un sito web per adulti che però non riesce mai a emergere davvero. Sta disperatamente inseguendo la fama, percorrendo qualsiasi via per incrementarla. Nel 2016 quando Ash ha circa 35 anni il reality show Gigolos viene cancellato. Da questo momento anche il suo reddito diminuisce drasticamente e ora Ash ha difficoltà a trovare lavoro dato che non appare più in televisione. Continua a fare il Gigolo ma le clienti scarseggiano sostituite dalle fan che però non intendono pagarlo per i suoi servizi. Si accontentano di incontrarlo e scattasse una foto con lui. Col tempo poi anche le fan diminuiscono, si disinteressano a lui. Così nel giro di due anni Ash perde completamente la sua fama. I cash che aveva guadagnato grazie alle sue apparizioni in tv si esauriscono e si ritrova al verde. Arriviamo al 2020 quando Ash si sta avvicinando ai 40 anni e vive ancora a Las Vegas con una ragazza di nome Lisa. In questo periodo però conosce un'altra donna di nome Harleen Dulai. Vi parlo di lei. Harleen ha 29 anni, è laureata in scienze biologiche ed era cresciuta in California. I suoi genitori erano immigrati dall'India e ha anche tre sorelle maggiori. Harleen è una ragazza positiva, ha sempre il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Inoltre è molto premurosa. È legatissima alla sua famiglia, parla con i suoi genitori e le sue sorelle ogni giorno, talvolta anche più volte al giorno. In particolare adora la sua nipotina, ogni sera prima che lei vada a letto la vede tramite una videochiamata su FaceTimes. Harleen però, soprattutto in passato, aveva molte insicurezze. Si sentiva spesso fuori posto, un po' persa. Nel 2017, subito dopo essersi laureata, aveva preso la drastica scelta di trasferirsi a Las Vegas. Sentiva il bisogno di dare una svolta alla propria vita, di sperimentare qualcosa di nuovo. Aveva iniziato ad andare in palestra e con l'aiuto di un personal trainer si era rimessa in forma. Harleen aveva acquisito fiducia in se stessa e compreso di amare l'ambiente della palestra. In un certo senso gli aveva cambiato la vita, così aveva deciso di diventare anche lei una personal trainer. Sempre più sicura di sé, Harleen aveva trovato più di un lavoro come modella. Tuttavia sta ancora lottando per conquistare un pieno benessere psicologico, infatti è ancora soggetta a periodi di depressione. Nel 2020 Harleen rivela ai suoi amici di avere un tumore. Lo ha scoperto nel mese di maggio. Non emerge chiaramente dove fosse localizzato il cancro. Alcune fonti riportano al cervello, altri alla tiroide. Durante il periodo segnato dal lockdown, Ash scrive ad Harleen in privato su Instagram. I due non hanno mai interagito prima di questo momento. Ash l'ha notata navigando nell'applicazione e l'è piaciuta parecchio, quindi l'ha contattata. Dopodiché organizzano il loro primo appuntamento. Tuttavia, anche in questo caso, le fonti si contraddicono. Una versione diversa rispetto a quella che vi ho appena raccontato sostiene che Harleen fosse una cliente di Ash. Cioè, nonostante le persone più vicine a Harleen, come i suoi familiari e le sue amiche, affermano che lei non avrebbe mai e poi mai assunto un gigolò, anche per motivazioni caratteriali. In ogni caso, i due si incontrano, vanno molto d'accordo, al punto da cominciare a sentirsi quotidianamente. Nel giro di un paio di settimane si infatuano l'uno dell'altra. Vi ho detto che Ash vive con la sua ragazza di nome Lisa, ma come sappiamo è poliamoroso, quindi coltiva più relazioni nello stesso momento. Tuttavia, non è chiaro se, in questa fase iniziale, Lisa sappia dell'esistenza di Harleen e viceversa. Ash ripete ad Harleen che è pazzo di lei e vuole dedicargli ogni minuto delle sue giornate. Però, al tempo stesso, Ash non abbandona la sua smania di diventare famoso e gliene parla. Sa che può farcela riconquistare la notorietà e a diventare ricco. Propone addirittura a Harleen di entrare in affari insieme perché ha un sacco di idee per riemergere sulla cresta dell'onda, come condurre uno show televisivo, creare un'app di incontri e una per insegnare agli uomini come fare colpo sulle donne, rimorchiandole e flirtando nel modo giusto. Insomma, l'avrete intuito Ash, ha varie idee stravaganti e di potenziale successo, ma non riesce a realizzarle perché non ha la sufficiente motivazione. E soprattutto non ha nemmeno soldi, una risorsa necessaria per investire nella creazione di un'applicazione o di qualsiasi altra cosa. Intanto convince Harleen a sottoporsi a dei trattamenti alternativi per curare il cancro. Le fonti riportano che le fa assumere veleno di serpente. Non chiedetemi come, perché non ne ho idea. Poi la esorta a intraprendere insieme una piccola fuga spirituale nell'oiuta che aiuterà Harleen a superare i suoi traumi che continuano a condizionarle la vita. Una volta tornati a Las Vegas, Ash capisce di essere completamente innamorato di Harleen, quindi lascia Lisa per concentrare tutte le sue attenzioni su di lei, per uscire soltanto con lei. Arriviamo a luglio del 2020. Sono passate soltanto sei settimane dall'inizio della frequentazione tra Ash e Harleen. Il 15 luglio Ash va a prendere Harleen in palestra e si dirigono insieme a casa sua. La sua ex Lisa in realtà vive tuttora lì perché non è ancora riuscita a traslocare. Ash ha fatto a Lisa di discorsi strani e inquietanti. Le ha ripetuto che Harleen è circondata da una terribile energia oscura che è necessario rimuovere. Lisa però non capisce cosa intenda Ash, vede Harleen e non le sembra proprio che abbia questa orribile energia oscura intorno a lei. Come detto prima Harleen è una donna gioiosa che sorride sempre e anche davanti a Lisa non fa eccezione, si mostra allegra. Lisa la ascolta mentre Harleen parla con la sua famiglia, la sente ridere spesso e chiacchierare normalmente, per cui non ravvisa nulla di sbagliato o di bizzarro in lei. Piuttosto è Ash che assume dei comportamenti insoliti e sospetti secondo Lisa. Lisa decide di ignorare una situazione che in fondo non la riguarda. Quella sera lascia l'appartamento per passare la notte da un'amica e dare alla coppia un po' di privacy. Quando Ash e Harleen restano da soli salgono nella camera da letto dell'uomo, prendono entrambi dei funghetti e altre sostanze psichedeliche, poi accendono delle candele per rendere l'atmosfera più romantica e guardano il film Avatar in tv. Avrebbero dovuto trascorrere una serata rilassante, tuttavia durante la notte qualcosa va storto. Alle 10.32 del mattino del 16 luglio 2020 Ash chiama i servizi di emergenza sanitaria. Parlando in modo frenetico dice subito suonera folle perché è folle, poi riferisce all'operatore del 911 che c'è il cadavere di una donna accanto a lui. Questo purtroppo vuol dire che Harleen è morta, ma Ash inizia a divagare al telefono con l'operatore. Gli dice sai non so se hai mai provato i funghetti, ieri li ho assunti e non ero in questa realtà. Afferma poi che lui e Harleen avevano pregato, guardato il film Avatar, ma poi all'improvviso tra i due era scoppiata una forte elite che era diventata fisica. Ash sostiene che era stata Harleen ad aggredirlo per prima e siccome lui temeva per la sua vita aveva dovuto rispondere all'attacco. La polizia si precipita a casa di Ash e si ritrova catapultata in una scena dell'orrore. Gli agenti, dopo aver salito le scale di corsa, individuano Ash che sta eseguendo una rianimazione cardiopolmonare su Harleen, che è coperta di sangue dalla testa ai piedi. Ma decisamente più orribile e sconcertante è l'aspetto del viso della donna, che risulta irriconoscibile perché gonfio e pieno di libidi. Le orecchie di Harleen sono blu, i capelli sono incrostati dal sangue e riporta molteplici graffi, tagli e profonde lacerazioni sicuramente provocate da un coltello. Il suo corpo inoltre è invaso dalla cera proveniente dalle candele, due delle quali le sono state posizionate addosso e appaiono anch'esse coperte di sangue. Accanto al corpo di Harleen c'è una statua di ceramica altrettanto macchiata vistosamente di sangue. La polizia a questo punto chiede ad Ash perché Harleen si è ridotta in queste condizioni e lui ripete la storia della legittima difesa dicendo beh Harleen mi ha aggredito per prima quindi ho reagito per difendermi. Sulla scena del crimine ci sono anche i paramedici che ancora cercano di trarre in salvo la donna ma purtroppo non c'è davvero più nulla da fare. Così Harleen Dulay viene dichiarata morta mentre Ash viene immediatamente arrestato. La polizia perquisisce l'appartamento di Ash e trova dei vestiti insanguinati nella lavatrice e del sangue annacquato nel bagno. Risulta quindi evidente che lui aveva tentato di ripulire il luogo del delitto. Gli agenti individuano anche una valigia piena di abiti la quale lascia ben supporre che Ash volesse scappare. Inoltre appesi accanto al letto ci sono un coltello e un coltellino da tasca che la polizia considera come le armi del delitto. Dopo un'attenta ispezione del corpo di Ash non si evidenzia alcuna ferita. Non c'è un solo graffio livido sul suo corpo il che smentisce la storia da lui raccontata ai detective secondo la quale Harleen l'aveva aggredito. Nulla torna nella ricostruzione dei fatti di Ash ma la scoperta peggiore si verifica durante l'autopsia del cadavere di Harleen. Credetemi questo è uno degli omicidi più sadici e brutali di cui abbia mai sentito parlare. L'autopsia rivela che la bocca di Harleen è completamente polverizzata. Le sue gengive sono state triturate, le manca qualche dente e quelli che è ancora in bocca sono tutti rotti. Riporta una frattura al collo, una a una costola e una abrasione all'orecchio simile a un ostione. Si evidenziano ferite da taglio su tutto il suo viso e il collo e numerosi ferite da corpo contundente su tutto il resto del corpo. Si rileva la presenza di sangue nei polmoni e delle lividure sul collo che corrispondono ai segni di uno strangolamento. Harleen presenta anche un'emorragia al cuoio capelluto, agli occhi, al naso, alla lingua, alla trachea, alle braccia, alle gambe e persino al cervello. Ma la scoperta più scioccante di tutte è che i denti che le mancano vengono trovati all'interno del suo stomaco. Harleen ha davvero subito un attacco brutale, sadico e ferocemente violento. Riporta così tante ferite e la causa della sua morte viene determinata come una combinazione dei traumi da corpo contundente e lo strangolamento. Chiaramente nessuna di queste ferite le è stata inflitta durante un tentativo di legittima difesa, nonostante ciò che afferma a Charmand, che viene quindi accusato di omicidio. Quando la famiglia di Harleen viene informata del delitto rimane completamente sconvolta, scioccata, devastata da questo assassino così brutale. Per preparare dignitosamente Harleen per il funerale, siccome il suo viso è completamente sfigurato, la famiglia della vittima assume uno specialista. Il suo corpo senza vita viene sottoposto a 15 ore di chirurgia ricostruttiva, col fine di restituirle un aspetto presentabile, affinché la bara possa essere lasciata aperta. Nel frattempo Ash nega ogni responsabilità nella morte di Harleen, continuando a parlare di legittima difesa. Dichiera di essere stato costretto a ucciderla, altrimenti lo avrebbe ammazzato lei. Ma, considerate le molteplici lesioni che straziano i resti di Harleen e la mancanza di ferite sul corpo di Ash, lui sta certamente mentendo. Eppure, la sua famiglia lo supporta in tutto e per tutto e va in giro alla ricerca dei soldi per assumere un buon avvocato. Ne fa richiesta anche a Garen James, il titolare dell'agenzia di escort Cowboy for Angels, ma lui si rifiuta. Così la famiglia di Ash lancia una campagna su GoFundMe per finanziare la sua difesa. Si comporta come se Ash fosse un uomo innocente accusato ingiustamente di omicidio. Sulla pagina GoFundMe i suoi parenti scrivono Una mattina di luglio una giovane donna molto malata è morta a casa di Ash. Lui ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, ma tragicamente lei non è sopravvissuta. Ash è stato ingiustamente accusato di un crimine terribile e senza una difesa competente potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione. Onestamente mi chiedo come si faccia sostenere l'innocenza di Ash considerando le terribili ferite che Arlene ha riportato. Come possono affermare che sia stato un incidente? E perché sottolineare che lei era una donna molto malata quando non è chiaramente morta a causa del suo male, ma perché è vittima di un omicidio brutale e sadico? La cosa ancora più sconcertante è che questa campagna su GoFundMe riesce a raccogliere qualche migliaio di dollari. Anche alcune follower di Ash creano delle pagine su Instagram per supportarlo e gli utenti commentano le sue foto scrivendo che Ash è un tesoro, ma soprattutto una persona così zen. Nello show Gigolos, come detto, Ash è stato ritratto come una persona pacifica e amante della meditazione e la gente crede che lui sia davvero così anche nella vita reale. Il pubblico non prende in considerazione il fatto che tutti i reality show si appoggino su una sceneggiatura che i partecipanti interpretino un ruolo, che non siano esattamente così nella loro esistenza quotidiana. Quindi per tutte queste persone Ash non è capace di uccidere e vengono anche avviate delle campagne affinché lui sia rilasciato immediatamente. Ash intanto continua a dichiararsi non colpevole dei suoi crimini e ha anche un sacco di ex colleghi che lo sostengono. È notevole e pazzesco il supporto che Ash riesce a ottenere. Sembra che fin troppe persone trascurino il fatto che una giovane donna ha perso orribilmente la vita. Nel settembre del 2021, però, su consiglio del suo avvocato, Ash Armand cambia la sua dichiarazione in colpevole. Nel dicembre dello stesso anno viene condannato dagli otto ai vent'anni di prigione per l'omicidio di Arlene, che a mio avviso sono davvero pochi. Sono certa che vi state chiedendo cosa fosse accaduto quella notte, cosa avesse originato un omicidio così sadico e selvaggio, quale fosse il movente. Purtroppo non c'è una spiegazione esaustiva, perché Ash non ha mai parlato, ma chiaramente sono state fatte delle supposizioni. Qualcuno ha ipotizzato che Ash stesse eseguendo un rituale di esorcismo, dato che affermava che Arlene era avvolta da questa energia negativa e oscura. E lo suggerirebbe anche il fatto che sono state trovate delle candele sulla scena del crimine e della cera sul corpo della vittima. Qualcun altro sostiene che, avendo assunto diverse sostanze, Ash quella notte era stato suggestionato dalle allucinazioni e si era scagliato contro Arlene. Terrià, a mio avviso, molto probabile. Molti altri ancora invece ritengono che in Ash avesse predominato quel lato diverso, iroso e violento della sua personalità, che era emerso a causa dell'uso prolungato di steroidi. Anche questa la considero un'ipotesi più che plausibile. Quando si è verificato l'omicidio, Ash stava ormai assumendo steroidi da anni, oltre a molte altre sostanze, spesso prese in contemporanea. Ha manifestato questa reazione violenta all'improvviso e probabilmente il motivo non lo sapremo mai, a meno che Ash non decida di rilasciare un'intervista sincera dal carcere. A mio avviso è molto probabile che Ash abbia manifestato questo violento scatto d'ira a causa sia degli steroidi che delle sostanze assunti quella sera, commettendo uno degli omicidi più raccapriccianti di cui sia mai venuta a conoscenza. Voglio concludere questo video soffermandomi sulla vittima del caso di oggi. Harleen Dulay è stata descritta come una persona dolce e premurosa. Era incredibilmente legata alla sua famiglia. I suoi amici e i suoi parenti la chiamavano Happy Harleen perché era sempre di buon umore con un sorriso splendido sulle labbra. Amava gli animali e i bambini, adorava la sua nipotina e aveva un'anima gentile e pacifica. Harleen non aveva ancora trovato il suo scopo primario nella vita, ma lo stava cercando. Aveva dato una svolta alla sua esistenza trasferendosi a Las Vegas e intraprendendo un percorso per stare meglio con se stessa. Era alla ricerca della strada più giusta per lei da percorrere. Aveva così tanto amore da donare e una vita magnifica l'aspettava, ma l'è stata strappata via troppo presto. Aveva soltanto 29 anni. La sua è una tragedia che suscita tanta tristezza ed è terribile che la famiglia di Harleen non possa neanche ottenere delle risposte alle numerose domande che la torturano. Perché Harleen è stata uccisa in modo così efferato? Qual era la reale circostanza in cui aveva conosciuto Ash? Quali erano le dinamiche della loro relazione? Soltanto il suo assassino potrebbe chiarire ogni dubbio o mistero, ma per ora ha scelto di tenere la bocca chiusa. Spero ugualmente che la famiglia di Harleen possa trovare anche solo un briciolo di pace e di tranquillità, che con il tempo riesca almeno a stare un po' meglio, che la verità scenda a far luce su questa vicenda straziante, reclamando giustizia per Harleen. E questo ci porta alla fine di questo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già e che cosa ne pensate. Io non conoscevo questo caso e devo dire che sono rimasta abbastanza colpita da questa storia. Purtroppo non possiamo sapere cosa sia successo realmente ad Harleen e non possiamo sapere cosa sia scattato nel cervello di Ash quella terribile notte. E trovo sia davvero un dispiacere. Non tanto per il video che sto girando, ma per i genitori di Harleen, che penso meritino di conoscere la verità, di sapere cosa sia successo. E io spero che presto vengano a scoprirlo. Spero che presto Ash parli e si decida a dire cosa sia successo quella notte. Io nel frattempo vi invito a scrivere tutti i commenti che volete con le vostre opinioni, i vostri sentimenti, le vostre sensazioni. Scrivete quello che volete qui sotto nei commenti perché io sono curiosa e vi leggo tutti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!